I ricercatori della scienza dei materiali Io sono una ricercatrice nel campo della scienza dei materiali. Si tratta di un settore della ricerca scientifica che vede coinvolte diverse figure professionali, tra cui chimici, fisici e ingegneri. In generale, spette chimici il ruolo di creare nuovi materiali a partire dalla loro formulazione. Io sono un ingegnere e mi occupo di cambiarne forma e composizione al fine di conferirgli particolari proprietà. I materiali con cui lavoro sono noti sotto il nome di polimeri, ovvero macromolecole, cioè costituite da un gran numero di unità ripetenti uguali o diverse, legati tra di loro per formare una catena. Possono essere di origine sintetica, semisintetica o anche naturale. Ci sono diverse tecnologie che possono tornare utili per cambiare la forma dei polimeri. e la scienza va nella direzione in cui ognuno possa dar sfogo alla propria immaginazione in un modo molto semplice ed anche piuttosto intuitivo. Sto pensando, per esempio, alle stampanti 3D, per cui un operatore può essere un privato cittadino o anche, per esempio, un'equip di medici chirurghi. eppure nell'immaginario collettivo al termine polimeri o plastica siamo soliti associare la bottiglia dell'acqua minerale. Eppure essa è costituita da uno delle tantissime specie di polimeri che vengono oggi utilizzati. E ve ne sono alcuni che possono assumere delle forme talmente confortevoli da poter essere indossati. Queste sono delle maglie di uso comune e sempre più di frequente leggiamo sulle etichette che c'è la presenza di materiali come il poliestere, il nylon, l'acrilico. In effetti i polimeri sono entrati nell'industria tessire alla fine degli anni Ottocento, primi anni del Novecento perché avevano delle caratteristiche peculiari che li rendevano superiori rispetto alle fibre naturali. Parlo, per esempio, della flessibilità dove si tratta di flessibilità non solo di forma ma anche degli utilizzi che se ne può fare oppure una maggiore durabilità nel tempo o maggiore elasticità. Avrete sicuramente sentito parlare e avrete sicuramente utilizzato dei tessuti in microfibra. La microfibra è un filato due volte più leggero della seta e tre volte più leggero del cotone. Viene realizzato attraverso un processo di filatura che permette di modificarne forma e dimensioni cambiando le dimensioni dell'orifizio da cui fuoriesce. Caratteristiche principali di un tessuto in microfibra sono l'estrema leggerezza e sofficità al tatto ma la cosa molto interessante è che le rende così estremamente versatili è che con lo stesso materiale è possibile realizzare dei tessuti traspiranti o anche dei tessuti antivento. Ebbene, le dimensioni di una microfibra sono di circa 10 micrometri ovvero confrontabili con le dimensioni del capello di un uomo. È possibile realizzare delle fibre centinaia di volte più piccole? Quest'immagine ad alta risoluzione realizzata presso i nostri laboratori mostra il capello di un uomo al centro avvolto da un'intricata matassa di fili. Si tratta di nanofibre di polimero centinaia di volte più sottili rispetto al capello e quindi centinaia di volte più sottili rispetto alle microfibre. I nostri studi hanno dimostrato che cambiando forma e dimensioni di questa matassa di fibre è possibile conferire al tessuto delle particolari proprietà e questi tessuti sono interessanti in svariati settori applicativi per esempio nella filtrazione. La superficie specifica di questi tessuti aumenta così tanto che è possibile per esempio filtrare gli oggetti più piccoli il particolato più piccolo o ancora è possibile utilizzare dei polimeri biocompatibili significa che possono interagire con i sistemi viventi senza alterarne le funzioni vitali per realizzare degli scaffolds. È un termine inglese che significa impalcatura. Gli scaffolds sono molto utilizzati in ingegneria tessutale rigenerativa e sono dei supporti che vengono offerti al tessuto da rigenerare. Ancora, è possibile utilizzare dei polimeri biocompatibili e anche piezoelettrici per trasformare energia meccanica in energia elettrica. Ed è questo quello di cui parleremo oggi. Vediamo innanzitutto come funziona un materiale piezoelettrico. Nello schema che state vedendo è rappresentato dal rettangolo centrale che è connesso tramite due cavi elettrici all'estremità di uno strumento chiamato voltmetro che è uno strumento in grado di misurare una differenza di potenziale. Immaginiamo di applicare una pressione a questo materiale. Esso, di conseguenza, si deformerà. Ogni volta che il materiale si deforma si generano sulla sua superficie delle cariche elettriche di segno opposto che danno origine ad una differenza di potenziale che andremo a leggere sul nostro strumento, il voltmetro. Vediamo una piccola simulazione. All'aumentare della pressione che applichiamo aumenterà di conseguenza la deformazione indotta nel materiale ed aumenterà il valore di voltaggio che andremo a leggere. Nella vita comune il principio della piezoelettricità è molto utilizzato. Pensiamo, per esempio, all'accendino. Ogni volta che noi premiamo il materiale piezoelettrico che si trova al suo interno si deforma e deformandosi dà origine ad un arco elettrico all'interno del box che contiene il gas e quindi si genera la fiamma. Ci sono molti materiali piezoelettrici che sono di origine naturale. Il quarzo, per esempio, è la piezoelettricità e il principio di funzionamento alla base degli orologi al quarzo. Altri materiali naturali sono il topazio, anche lo zucchero di canna. E si possono fare tanti altri esempi di oggetti che contengono materiali piezoelettrici e che ne sfruttano il funzionamento. Per esempio, i sensori dell'airbag o anche la chitarra acustica. Ma cosa hanno in comune questi materiali che ho adesso menzionato? L'accendino, la chitarra, l'airbag? Si tratta di oggetti dotati di una propria forma, anche rigidi e, in molti casi, fragili. Fragili, così come sono fragili i materiali piezoelettrici che ne abilitano la funzione. Infatti, nella maggior parte dei casi, i materiali piezoelettrici utilizzati sono di origine ceramica. e hanno un altro grave difetto, e cioè che, avendo forma propria ed essendo così fragili, non sono conformabili, cioè non sono in grado di assumere la forma dell'oggetto sul quale vengono posizionati. Questo è un materiale piezoelettrico in forma di tessuto. esso è così come appare, estremamente morbido, leggero, flessibile, può essere piegato e avvolto senza danneggiarsi, ed in più ha anche una buona resistenza meccanica. È stato realizzato attraverso un processo di filatura molto simile a quello utilizzato per realizzare le microfibre, solo che in questo caso il processo è coadiuvato dalla presenza di un campo elettrico. osservato ad un microscopio ad elevato ingrandimento, questo è il modo in cui questo tessuto appare, cioè un intreccio di fili centinaia di volte più piccoli rispetto alle microfibre. Quindi questo tessuto ha tutte le proprietà e i vantaggi dei materiali polimerici. È biocompatibile, è piezoelettrico e non basta. È anche estremamente sensibile al tatto. Questo è un modello molto comune e diffuso di smartphone touchscreen. Ogni volta che desideriamo eseguire un'operazione, premiamo leggermente sulla superficie del display. In questo modo riusciamo ad abilitare la funzione desiderata. la pressione che noi applichiamo è pari a circa 2.000 pascal. Proviamo adesso a pensare a quale possa essere la pressione che una farfalla esercita su un fiore quando si posa su di esso. Questa è la Vanessa del Cardo, splendido esemplare di insetto migratore che ogni anno migra dalle coste del Sud Africa fino al Mediterraneo e poi su fino alla Gran Bretagna, per poi tornare indietro e concludere il suo ciclo. Le farfalle hanno sei zampe e gli esemplari più piccoli pesano 10 milligrammi. Quindi sono in grado di esercitare una pressione pari a 2 pascal, cioè mille volte inferiore rispetto alla pressione che noi esercitiamo sullo schermo del nostro telefonino. Ecco, il tessuto che vi ho mostrato è in grado di generare energia a partire da una pressione 10 volte inferiore a quella esercitata dalla farfalla che si posa su di un fiore. Cioè 10.000 volte inferiore rispetto al nostro tocco gentile quando utilizziamo lo smartphone. Questo significa che ogni volta che un piccolo insetto o anche una foglia o una debole folata di vento perturba il tessuto, esso è potenzialmente in grado di generare energia elettrica. Chiaramente le applicazioni sono tantissime, proviamo a vederne qualcuna. Sarà possibile generare energia a partire da qualsiasi forma di movimento, quindi una camminata, una passeggiata, o anche le onde del mare, onde meccaniche, o anche suoni, rumori, vibrazioni, perché è estremamente sensibile anche alle onde acustiche, oppure folate di vento. Questi sono movimenti ai quali generalmente sono associate delle forze piuttosto consistenti, per cui verrebbe da pensare, va bene, è anche possibile magari utilizzare un materiale piezoelettrico un po' più fragile, purché è ben impacchettato o funzionerà nello stesso modo. È vero però, ci sono tantissime applicazioni della vita quotidiana, nelle quali, se ci pensassimo, semplicemente sostituendo il tessuto in microfibra con un tessuto piezoelettrico, potremmo generare energia elettrica a partire da energia meccanica spesa, che quotidianamente viene spesa ed inutilizzata. Potremmo foderare, per esempio, tende, tendaggio o ombrelloni, o anche giacche antivento per la pioggia, perché in ognuno di questi casi o il vento o la pioggia esercitano una forza sul tessuto e possiamo raccogliere l'energia che il tessuto genera. Qui sono rappresentate tantissime altre applicazioni a cui possiamo pensare. Pensiamo, per esempio, al corpo umano, l'apparato cardiocircolatorio. 60-80 battiti minuto significa 60-80 distensioni e contrazioni in cui il tessuto potrebbe caricarsi per produrre 1-2 volt di tensione che sarebbero sufficienti ad alimentare un pacemaker. Quindi il cuore sarebbe in grado di autoalimentare il proprio pacemaker. Oppure pensiamo al mondo dello sport, dove l'interazione tra il tessuto indossato e il corpo che lo indossa potrebbe permettere di generare energia o anche di interagire a livello locale e questo lo può fare in due modi. Un modo potrebbe essere che il tessuto memorizza informazioni del muscolo sul quale è posizionato. Ne segue il movimento e queste informazioni possono essere d'aiuto per tutti coloro che studiano il logorio muscolare oppure lo studio della prestazione. Un'altra possibilità potrebbe essere che ogni volta che esercitiamo un muscolo, facciamo attività fisica o che comunque compiamo degli sforzi, il tessuto interagisce col sistema e genera alcuni millivolts o anche volt di tensione che poi può rilasciare al sistema vivente sotto forma di picchi di energia e in questo modo è possibile ottenere degli scopi riabilitativi. Ora le applicazioni potrebbero essere tantissime. Alcune di queste sono in fase di sperimentazione presso l'Istituto Nanoscienze a Lecce. Il tempo stringe, io mi avvio alla conclusione, però prima di farlo vorrei ringraziare lo European Research Council che ci ha permesso di iniziare e proseguire questo meraviglioso viaggio e soprattutto grazie a voi per l'attenzione. Grazie.